Anche i pescherecci di Giulianova, dopo circa 10 giorni di stop come segno di protesta contro il caro carburante, hanno ripreso il mare. Una buona notizia che permetterà al mercato ittico locale di tornare operativo. La ripresa dell'attività è stata decisa dopo l'incontro di ieri tenutosi a Pescara, dove la regione Abruzzo sembrerebbe essersi impegnata a supportare economicamente la categoria. Dunque i prossimi giorni saranno l'insegna delle riaperture. Da domani con lo sbarco dei pescherecci che operano in tratti di mare non lontani, il prodotto fresco tornerà al centro delle contrattazioni anche nel mercato ittico giuliese. Abbiamo deciso di tornare in mare anche perché molte marinerie sono uscite, quindi ci sono stati malumori anche dalla marineria di Vasto e Ortona e la maggioranza democraticamente ha deciso di tornare in mare. Sulla scia della decisione della regione Puglia che ha appoggiato i marinai, anche noi faremo la richiesta di poter mettere un tetto massimo al gasolio. La regione Puglia praticamente fino a 75 centesimi pagheranno i comandanti e le imbarcazioni, mentre tutto il costo sopra i 75 centesimi verrà integrato dalla regione. Quindi credo che noi faremo la stessa richiesta che hanno fatto gli altri. dato che anche le altre regioni, Lazio, Sicilia, Puglia, Calabria stanno facendo le stesse cose. Un'altra notizia importante è che da domani riapre anche il mercato ittico qui a Giulianova. Sì, sì, da stanotte riaprirà il mercato all'ingrosso e ci sarà di nuovo il pesce sulle tavole. Che momento è questo per i pescatori? È un momento brutto perché già c'erano altre criticità presenti, già pregresse nel tempo e non sono mai state risolte. Adesso anche questo è il colpo finale che ci pesa sul groppone. Grazie. 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 Grazie.